Un viaggio in Puglia attraverso l'occhio del cinema. Scatti di cinema è un'antologia fotografica delle location di film e spot girate in Puglia negli ultimi 12 anni. 40 foto di grande dimensione scattate durante la lavorazione dei film di registi importanti come Pupi Avati, Ferdano, Spetec, Giovanni Veronesi, Sergio Rubini e Alessandro Piva mostrano i luoghi e gli angoli più suggestivi della regione, da Bari a Grevina, dal Gargano alla Valle d'Itria, dal Salento ad Alberobello. luoghi che molti turisti cinefili cominciano a cercare per fotografarli a loro volta. La mostra allestita dalla Puglia Film Commission nella Casa del Cinema al Cineporto di Bari sarà aperta da sabato 10 a domenica 18 settembre in concomitanza con giorni e orari di apertura della 67esima Fiera del Levante, un'occasione per intercettare un pubblico più ampio rispetto a quello dei cinefili. La mostra è curata da Daniele Trevisi con la collaborazione di Cristina Piscitelli. Insomma noi adesso in Puglia rappresentiamo un bel riferimento per il cinema, non solo, ma poi la Puglia ha avuto questo grande impulso ulteriormente proprio grazie all'operazione svolta diciamo all'interno del cinema. Per cui più che scelta delle pellicole, questo è un vero e proprio viaggio all'interno della Puglia, è un mostrare la Puglia attraverso il cinema o il contrario, nel senso che l'idea è quella di, una volta che ci sei fatto questo giro di questa mostra, tu è come se avessi fatto un piccolo viaggio in Puglia perché in realtà il cinema è soltanto un pretesto per raccontare la nostra terra. Scatti di cinema è una mostra itinerante. Dopo il debutto eccellente l'anno scorso a Venezia, arriva a Bari dopo le tappe ad Alberobello e Noci. Le prossime saranno Brindisi, Barletta, Molfetta e Taranto. Grazie a tutti.